Sono Maria Limardo, sindaco della città di Vibo Valencia e ringrazio IFEL per aver voluto organizzare anche quest'anno la conferenza nazionale che giunge alla sua undicesima edizione. Sarà un'occasione di riflessioni e soprattutto sarà un'occasione per portare all'attenzione del governo le problematiche più importanti che affliggono i nostri comuni. Personalmente per quanto riguarda i comuni del Meridione, certamente per quanto riguarda il mio che è un capoluogo di provincia calabrese, spero che possano essere affrontate due tematiche importanti. Innanzitutto quella delle spese correnti che sono quelle che maggiormente ci penalizzano e poi quella che riguarda il personale per consentire che sia da un punto di vista numerico sia dal punto di vista della formazione, possiamo essere al passo con i tempi, con le risorse del PNRR che arriveranno da qui a poco. Vi ringrazio e a presto vederci.